Abba labba dab dab e bentornati su No Mamamazzo. Continua la mia retrospettiva sui film di Spider-Man di Sam Raimi. Oggi parliamo insieme di Spider-Man 3 del 2007, capitolo più debole della trilogia per diversi motivi che ora andiamo a vedere. Ma è davvero così brutto? Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che conoscete che hanno un simbionte alieno e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film. Se preferite questo Venom o il Venom di Tom Hardy e perché, e fatemi sapere anche che aspettative avete sul prossimo Venom quando incontrerà Spider-Man di Tom Holland. Perché no? Speriamo? Oppure no? Cosa volete voi? Scrivetemelo qua sotto. Vi ricordo sempre che ogni martedì, ormai soprannominato Marvel D, finché non inizierà Loki il mercoledì, gioco a Marvel Spider-Man la sera sul mio canale Twitch alle ore 22 circa. Sempre qua in descrizione trovate tutti i link agli altri miei social, quindi se vi va di vedermi volteggiare nei panni di Spider-Man mentre chiacchieriamo un po' di tutta questa faccenda Marvel, Marvel Spider-Man e Spider-Man No Way Home, collegatevi al mio sito Viola. Come sempre partiamo dall'inizio, dai lunghissimi titoli di coda che Sam Raimi ha messo in ogni film, che se nel primo film sembravano un po' strani, nel secondo si sono rivelati molto utili per fare un recap della situazione fino adesso, e anche nel terzo film fanno la stessa cosa. Non ci sono più dei disegni, infatti i miei titoli di coda preferiti sono quelli del 2 perché ci sono dei disegni che ci fanno ricordare da dove viene Spider-Man, viene dai fumetti. Nel terzo ci sono comunque delle fantastiche foto, oltre a sembrare all'interno di una ragnatela, sembrano anche all'interno di vetri rotti di uno specchio, questi vetri rotti di uno specchio che sono forse la specchiera che Harry Osborn ha distrutto alla fine di Spider-Man 2 scoprendo una stanza segreta nella mansione, nella grossa casa di Norman Osborn, di suo padre, scoprendo appunto che suo padre Norman Osborn era niente popo di meno che il Green Goblin e pare che anche il figlio abbia preso il siero di Green Goblin. Come? Perché nel finale del secondo film, quando tutti sono al matrimonio, Harry Osborn si volta verso la navata con questo sogginio beffardo e indossa un papillon, un farfallino di colore sospettosamente verde. Il tema del film avverte tutto sull'arroganza che Peter riesce a raggiungere grazie a tutti i consensi che ha ottenuto come Spider-Man. Mentre nel secondo film Peter Parker era Fantozzi, il secondo tragico Peter Parker, nel terzo film invece per qualche strana ragione, forse perché appunto la città di New York ha iniziato un pochino a rendersi conto che comunque sta salvando le persone, Spider-Man è visto bene dalla popolazione. Nonostante J. Jonah Jameson cerchi in ogni modo comunque di infangarlo. Dico per qualche strana ragione perché finché non salva la figlia del capitano Stacy, appunto Gwen Stacy, che qui viene introdotta come personaggio minore purtroppo in questa fantastica trilogia, non ha molto senso che la città adori Spider-Man. Però vabbè, chiudiamo un attimino gli occhi, tanto ce ne sono comunque di cose che fanno storcere il naso in questo film. Fatto sta che a un certo punto Peter salva la figlia del capitano Stacy, che è appunto la Gwen Stacy, che altro non è che la sua compagna di università, secchiona quanto lui, e grazie a questo la polizia vuole appunto dare le chiavi della città, che sono un riconoscimento simbolico che si dà appunto alle persone importanti, a Spider-Man. Questo fa gonfiare di orgoglio il timido Peter Parker, che è sempre stato bistrattato finora, e lo fa anche comportare in maniera abbastanza, come posso dire, antipatica, ma semplicemente per il fatto che è un nerd che non è mai stato cagato da nessuno, e non sa bene come gestire tutta questa popolarità, e fa quello che fanno tutti quando vengono sommersi per la prima volta da essa, cioè si dà delle arie. Questo fa anche sviluppare quella che finalmente vediamo come una relazione assodata tra Peter e Mary Jane, la sua ragazza che nei primi due film era semplicemente la bella da conquistare e da salvare dai cattivi. Qua finalmente Peter Parker fa parte di una relazione, una relazione stabile con la donna dei suoi sogni, tant'è che la vuole sposare. Anche in questo film è presente la saggia Zia May, anche se devo dire in ruoli minori rispetto al peso che ha avuto nel secondo film, ma comunque efficaci. Zia May è come sempre il grillo parlante, è la voce della coscienza di Peter Parker, che dice a Peter se tu vuoi sposare Mary Jane devi essere in grado di mettere tua moglie al primo posto, devi mettere tua moglie davanti a te stesso, alle tue priorità. Sei capace di fare questo? Peter nella sua totale ingenuità è convinto che basti l'amore per far funzionare una relazione e si butta a capofitto ciecamente in questa cosa essendo totalmente self-involved, cioè è solamente coinvolto da se stesso in questa fase della sua vita. Non si rende nemmeno conto che Mary Jane in realtà non c'è nella relazione che lui crede di avere. Tant'è che invece Mary Jane, per quanto stia attraversando anche lei un momento apparentemente bello, perché comunque recita Broadway in una commedia musicale, in realtà sta attraversando quello che lui attraversava nel secondo film, cioè viene scalzata, viene bistrattata comunque dagli agenti teatrali che la sostituiscono subito dopo la prima del teatro, proprio perché non ha abbastanza voce per un ruolo musicale, e quando tenta di confidarsi con Peter, Peter invece di ascoltarlo, fa quello che tutti i nerd, tutti i maschi razionali, cercherebbero di fare con la propria donna. Le dà un motivo, le dà una spiegazione, le dice che passerà, quando in realtà quello che vuole una donna, quello che vuole Mary Jane in questo momento, è semplicemente essere ascoltata, cosa che Peter non è in grado di fare in questo momento. Non è in grado di fare al punto che quando Mary Jane viene sostituita a teatro, Peter è l'ultimo a saperlo. Il difetto di questo film è che c'è tanta carne al fuoco, c'è troppa carne al fuoco, e a una prima visione è davvero troppo da digerire rispetto agli altri due film, che invece hanno meno carne al fuoco e approfondiscono molto quello che hanno. Qui buttano dentro tutto quello che non avevano buttato negli altri due film, e il che è davvero strano se si considera che quando uno va a vedere al cinema la pellicola non sa che è per forza l'ultimo capitolo della trilogia. Ma alla luce del fatto che è stato l'ultimo capitolo della trilogia di Spider-Man e alla luce del fatto che comunque tutto sommato chiude un bellissimo cerchio narrativo, ha una seconda, una terza visione, ha una visione dopo tanti anni, questo Spider-Man 3 non è così male, non è così male, specie se consideriamo che ci sono stati altri Spider-Man, c'è stato Amazing Spider-Man, adesso c'è Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, quindi se consideriamo non questo Spider-Man, questa trilogia di Raimi, come l'unica presente, l'unica storia mai raccontata della Tessi Ragnatele dei Fumetti, ma come una delle tante narrazioni del Tessi Ragnatele dei Fumetti è davvero una delle migliori, anche con il terzo capitolo, perché poi ci hanno dato modo di capire che ci sono comunque altre storie da narrare, altri modi di narrarle, e ci sarà sempre un modo migliore o diverso per narrare le gesta fumettistiche di Spider-Man al cinema, ma come trilogia completa con tanto di questo capitolo siamo comunque a una storia fatta davvero bene, al di là del fatto che al momento è l'unico terzo capitolo, quindi è l'unica trilogia, lo vedremo a dicembre con quest'altra trilogia, i paragoni, ma sono davvero film imparagonabili, quello di Spider-Man di Raimi e lo Spider-Man di Tom Holland, perché è lo Spider-Man di Tom Holland, di John Watts con Tom Holland, perché non mirano a essere una trilogia, non mirano a chiudere il cerchio né nel primo film né tantomeno nel terzo quelli con Tom Holland, si prendono il loro tempo così come deve essere, quindi non si possono paragonare i tre film di Holland con i tre film di Maguire. Questo film è un piccolissimo manuale d'amore su cosa fare e cosa non fare in una relazione, se avete qualche dubbio guardate quello che fa Peter in questa relazione e fate l'opposto. Un'altra però chiusura importante di un cerchio che si svolge in questo film è la chiusura del rapporto di amicizia tra Peter Parker, Harry Osborn e Mary Jane, questo triangolo amicizia amoroso che c'è tra questi tre si chiude finalmente in questo film che era lasciato in sospeso tra il primo e il secondo film, qua finalmente si chiude il cerchio, il cerchio della loro amicizia, amicizia compromessa dal fatto che Harry Osborn era ossessionato dalla morte del padre Norman Osborn a detta sua per mano di Spider-Man e comunque nonostante non sapesse che Peter fosse Spider-Man fino alla fine del secondo film ma comunque odiava Peter perché Peter è il fotografo ufficiale di Spider-Man, le voci che giravano era che lo conoscesse, che si appostasse suddetta stessa di Spider-Man per poter fargli delle foto così belle. Proprio perché c'è molta carne al fuoco questa faida tra Harry e Peter viene introdotta subito nel primo atto e viene messa in pausa subito nel primo atto grazie anche all'annesia di Harry Osborn che voi direte ma che mezzuccio da due soldi, che sceneggiatura pigra interrompere con l'amnesia per poi parlare d'altro. Sì, ma cita anche i fumetti. Come sapete Sam Raimi ci tiene tantissimo a omaggiare la fonte originale e l'amnesia di Harry Osborn altro non è che un riferimento all'amnesia che ha avuto Norman Osborn nei fumetti. C'è stato un periodo nella storia editoriale di Norman Osborn di Green Goblin che Norman Osborn aveva dimenticato di essere Goblin. Lo abbiamo visto con Harry e questo ci ha dato l'occasione di vedere l'amicizia tra Peter e Harry post-annesia come non l'abbiamo mai vista. Non l'abbiamo mai vista nemmeno nel primo film perché Peter viene morso subito dal ragno nel primo film e noi non vediamo quanto fossero amici prima. Vediamo subito questa diciamo credine questa inimicizia tra i due anche per il fatto che Peter viene visto come un figlio da Norman da Norman Harry allora ruba la ragazza Peter. Non vediamo mai una sana amicizia che finalmente vediamo in questo film. Vengono introdotti molti personaggi nuovi in questo film e proprio per questo le dinamiche classiche dei primi due film in questo film tendono un po' a disperdersi ma devo dire che comunque ci hanno provato a tenere tutto coeso e ho visto risultati molto peggiori rispetto a questo film. Viene introdotto appunto per pochissimo il capitano Stesi la figlia Gwen Stesi viene introdotto l'uomo sabbia viene introdotto Eddie Brock Jr. tenete presente questo Junior che vi darà fastidio ma poi c'è un motivo anche per questo pare che Eddie Brock abbia una storiella con Westesi in realtà scopriamo da subito che Eddie Brock è un bugiardo patologico che ingigantisce le cose anche dal suo punto di vista ed è un vittimista questo non è tanto il ritratto dell'Eddie Brock che conosciamo nei fumetti ma è più simile all'Eddie Brock Jr. che abbiamo visto in Ultimate Spider-Man fumetti se voi avete letto la serie fumetti Ultimate Spider-Man noterete la somiglianza tra il viscido carattere di questo Eddie Brock Jr. e quello dei fumetti Ultimate Sam Raimi lo fa per due motivi uno appunto per omaggiare questa versione di Eddie Brock che è più vicina all'età di Peter e quindi riesce a essere uno specchio di Peter in negativo ma anche perché c'è già stato un Eddie Brock nella saga di Raimi nel film Spider-Man 1 del 2002 quando Peter si presenta con le foto di Spider-Man il redattore Robbie Robertson dice guarda che Eddie sta provando da settimane a fare le foto di Spider-Man e non ci riesce quindi quello era un omaggio a Eddie Brock senior anche se in realtà nei fumetti Eddie Brock non è un fotoreporter ma è un giornalista ma il fatto che siano entrambi fotografi fotoreporter in questo in questo film che abbiano più o meno entrambi la stessa età fa proprio vedere Eddie come uno specchio malato di Peter specchio malato in cui Peter poi ci si tuffa a un certo punto è Peter stesso a diventare peggio di Eddie quantomeno più cattivo di Eddie anche se è comunque più onesto di Eddie la stessa storia finta storia in cui comunque ci prova con Guestesi esce a bere un caffè con Guestesi e si illude che sia la sua ragazza è un altro riferimento all'ultimate Eddie Brock di Ultimate Spider-Man dove appunto cerca di uscire con Guestesi ci prova con Guestesi viene rifiutato e si incazza cosa che fanno più o meno tutti quelli che ci provano su internet con le ragazze Eddie è questo tipo di persona non manca nemmeno qui il cameo di Stan Lee che però devo dire è uno dei più melensi mai visti in tutti i camei fatti da lui si apprezza molto di più in inglese perché dice una frase un po' sdolcinata ma poi dice Naf Sed che vuol dire non dico altro ma Naf Sed è un riferimento alla serie di fumetti Naf Sed cioè detto abbastanza in Naf Sed che era una serie di fumetti della Marvel in cui non c'erano i dialoghi era tutto narrato dal dal disegno dalla appunto dal non detto e questo Naf Sed di Stan Lee appunto fa riferimento a questo stile di fumetto a questo tipo di fumetti creato credo proprio dalla Marvel stessa in italiano chiaramente questa cosa si perde in un film così pieno di sottotrame e con un villain che viene subito tagliato fuori nel primo atto bisogna introdurre un nuovo villain specie se chi ha visto La Locandina e sa che c'è il costume nero di Spider-Man chissà che c'è il costume nero di Spider-Man sa che ci sarà Venom anche perché i trailer lo hanno detto e si sa che se c'è un Venom deve esserci dopo il costume nero di Spider-Man capito film di Venom di conseguenza avremo un cattivo nel solo terzo atto del film e se l'altro cattivo Green Goblin Junior viene tolto nel primo atto nel secondo atto de che se parla e così viene introdotto l'uomo sabbia Sandman Enter the Sandman che è un vero e proprio uomo sabbia un uomo composto da granelli di sabbia è fantastica la genesi dell'uomo sabbia quando l'uomo sabbia viene bombardato da questi non lo so da queste radiazioni che lo trasformano appunto in un uomo fatto di granelli di sabbia lui cerca di riformarsi da questi granelli e ciò che gli dà la forza per tornare a integrarsi è il ciondolo con la foto della sua figlioletta malata è una delle scene più belle di tutto questo film e forse anche di tutta la trilogia ed è fatta con la CGI è fatta con la CGI del 2007 ed è una delle scene più commoventi pensate un po' però dopo un Green Goblin quasi mentore di Peter e dopo un Odotto Grottopus quasi mentore di Peter perché uno lo vedeva come un figlio e si era ossessionato l'altro lo vedeva come un ottimo studente il futuro Dottor Ottavius non possiamo introdurre un uomo sabbia semplice criminale potenziato e così c'è un fenomeno di retcon che è una delle cose che mi ha fatto un pochino odiare questo film all'inizio ma devo dire che appunto dopo averlo rivisto l'ho apprezzato ovvero il fatto che abbiano reso Flint Marco questo è il nome dell'uomo sabbia complice dell'assassino del ladro che ha rapinato appunto il centro sportivo di wrestling e che ha poi assassinato lo zio di Peter Parker anzi hanno a tutti gli effetti fatto in modo che fosse proprio l'uomo sabbia Flint Marco ad aver assassinato per sua mano lo zio di Peter Parker questo fa riaffiorare i ricordi dolorosi del primo film e fa riaffiorare un aspetto di Peter che abbiamo visto poco nel primo film ovvero la sua rabbia la sua rabbia il suo desiderio di vendetta aggiunta anche all'arroganza che aveva accumulato appunto per tutta questa popolarità acquisita come Spider-Man aggiunta questa sua Peter-centricità e lui è ego riferito in questo film mentre negli altri due film era tutto attorno a Mary Jane adesso che Mary Jane l'ha ottenuta è tutto attorno a se stesso al punto che non vede nemmeno più i bisogni di MJ non l'ascolta la allontana quando è Mary Jane a notare che lui è in difficoltà e vuole comunque aiutarlo allontana anche l'aiuto che gli può dare MJ Mary Jane che in questo film rappresenta un po' l'ancora di salvezza di Peter Parker viene allontanata da Peter stessa e quando viene allontanata a Mary Jane si avvicina a qualcos'altro questa sostanza misteriosa che è piovuta dallo spazio mi piace che l'abbiano introdotta in questo modo così semplice perché introdurla come nei fumetti era impossibile era in una saga Avengers che non aveva senso sarebbe stato figo introdurla come nel cartone animato degli anni 90 anche lì con Peter salva John James dallo shuttle che arriva sulla terra e arriva portandosi dietro il simbionte ma anche lì c'era troppo da dire l'hanno fatta semplicemente arrivare con un meteorite questa sostanza che poi è il simbionte alieno senza troppe spiegazioni tanto non è importante cosa sia l'importante è il messaggio che porta anche qui la regia da film horror di Sam Raimi si fa davvero necessaria quando questo simbionte alieno prende vita quando vuole spaventare facendosi grosso ma è anche calzata benissimo nelle scene in cui ci sono i ricordi alterati ovvero quando Harry Osborn riprende appunto la memoria ricorda che Peter quando Harry gli chiede se suo padre è morto Peter sorride mentre gli dice di sì cosa che in realtà non è avvenuta all'inizio del film questo sì contento glielo dice in un altro frangente e gli stessi ricordi i ricordi immaginati di Peter quando immagina appunto Flint Marco che uccide Zio Ben vede un Flint Marco che lo uccide con rabbia quando poi invece scopriamo che viene quasi ucciso da un colpo di pistola partito per sbaglio mi piace come la rabbia di questi due personaggi alteri la realtà purtroppo è anche un film caratterizzato dal brutto aspetto dei costumi l'aspetto del Green Goblin di Harry Osborn è davvero orrendo non ha senso è su uno snowboard che se poteva avere senso nella scena iniziale in cui deve passare da dei palazzi strettissimi comunque non ha senso il costume poteva benissimo essere un costume verde come quello del padre col volto scoperto eventualmente se volevate far vedere il volto di James Franco o banalmente dato che appunto si sapeva che si sarebbe chiusa la trilogia poteva essere Hobgoblin come è successo anche nella serie Ultimate dei fumetti c'era una maschera argentata dorata fantastica che hanno inquadrato all'inizio perché non hanno usato quella era assurda banalmente c'è una scena in cui passano anche tra i panni stesi poteva avere comunque un costume molto scuro un blu scuro e quella maschera dorata o argentata e poteva passare attraverso un lenzuolo arancione e sarebbe stato per un secondo un fantastico Hobgoblin è un film che parla anche di vendetta quando Peter soddisfatto per aver eliminato l'uomo sabbia con vagonate di acqua se ne vanta con zia Mace dice che Spider-Man ha ucciso Flint Marco ma invece di trovare conforto invece di trovare contentezza da parte della saggia zia trova sconcerto perché la zia stessa che aveva avuto a che fare con Spider-Man nel secondo film dice Spider-Man non uccide la gente zio Ben non avrebbe mai voluto che qualcuno vivesse con la vendetta nel cuore e fa capire a un Peter che ancora non ha capito bene cosa sta succedendo nella sua vita che quello che sta facendo è sbagliato Peter torna un attimo sui suoi passi quando zia May gli fa un discorso del genere e butta il costume che è diventato nero perché ha assorbito appunto il simbionte alieno altro costume che a me non è piaciuto non mi è piaciuto assolutamente il costume nero fatto in questo modo ma ammetto che era l'unico modo perché fosse verosimile nel contesto di questa trilogia mi è piaciuto anche molto come è cambiato diventando il vero costume nero con il simbolo più grande bianco quando è andato addosso a Eddie Brock mi sarebbe quasi piaciuto come in Spectacular Spider-Man la serie animata del 2006 della Sony che Peter avesse iniziato ad avere il costume nero paro paro come quello colorato ma con il ragno che si allargava sempre di più mano a mano che passavano le scene vi ho parlato del genuino rapporto tra Harry e Peter purtroppo si scatena anche un altro genuino rapporto quello tra Harry e Mary Jane un rapporto pre amnesia pre ossessione di Harry per Spider-Man quindi quando Harry comunque era innamorato di Mary Jane e purtroppo scatta un bacio scatta un bacio perché già Mary Jane era messa male con la storia di Peter ha trovato in Harry il conforto che Peter non gli stava dando questo bacio purtroppo fa scattare di nuovo tutti i ricordi seppur alterati a Harry Osborn che intavola un piano macchiavellico per distruggere Peter partendo dal cuore come la voce di suo padre stesso gli ricorda fa lasciare Peter da Mary Jane cosa che calza a pennello in questo film perché Mary Jane lascia Peter ma non è assolutamente una ricita forzata tutto quello che Mary Jane dice a Peter a parte c'è un'altra persona lo pensava davvero lo pensava davvero che Peter non l'ascoltasse che non ci fosse mai e Peter era ancora immerso nel suo mondo bellissimo in cui voleva sposare Mary Jane gli fa vedere pure l'anello che non vuol dire niente l'anello da solo senza tutto il resto colpo di grazia un Henry Osborne e un James Franco con una recitazione fantastica con l'occhio un po' così dice a Peter che l'altra persona è lui ed è sconvolto per poi girarsi di colpo e fargli questo sorriso maligno questo sorriso maligno che fa scattare di nuovo la rabbia l'odio di Peter Parker che purtroppo rindossa il costume nero la scazzottata volutamente sgraziata e poco acrobatica poco coreografata ci fa capire quanto fosse una rissa tra amici porta al finale di questa faida con Goblin Junior con Harry Osborne che si becca una bomba in faccia cosa che mi ha spaventato molto quando ho visto quel film perché ho detto è morto il personaggio è morto il personaggio è morto e nella scena successiva Peter balla ma che cazzo sto guardando però non ho fatto mente locale sul fatto che era la stessa scena di Spider-Man 1 in Spider-Man 1 Goblin Norman Osborne lancia una zucca in faccia a Peter che gli distrugge la maschera e comunque lo lascia in vita non gli succede nulla e Harry Osborne è forte quanto Peter dopo aver assorbito il siero di Goblin quindi perché no però è una scena molto d'impatto è vedere che la tensione viene smorzata il climax di questo film viene smorzato dalla scena che purtroppo ha rovinato l'impatto che gli spettatori hanno avuto su questo film ma ciò nonostante non tutto il male viene per nuocere la rottura tra Peter e Mary Jane ci dà modo di esplorare un'altra relazione presente nei fumetti che è quella tra Peter e Gwen Stacy qui purtroppo solamente accennata ma mi piace che comunque Sam Raimi l'abbia omaggiata purtroppo solamente accennata e purtroppo solamente per fare ingelosire Mary Jane Peter non fa nulla di fisicamente esagerato come nei fumetti quando ha il costume nero non prende Rino Rino scusate per il collo e lo solleva fino a quasi ammazzarlo come succede nei fumetti o nei cartoni scusate si confondo ma fa qualcosa di altrettanto pesante da vedere in un impeto di rabbia scatena una rissa dove lavora Mary Jane nel bar dove lavora Mary Jane e involontariamente colpisce persino Mary Jane da qui capisce di essere fuori controllo e metaforicamente si rifugia sul campanile di una chiesa sappiamo noi che leggiamo i fumetti che questo serve a far staccare il simbionte da Peter questa scena è davvero fantastica perché è precisa a come l'hanno resa nei fumetti a come l'hanno resa nei cartoni animati ai cartoni con cui siamo cresciuti Peter con le campane della chiesa riesce a far staccare il simbionte dal proprio corpo che non voleva più staccarsi ma per fortuna il simbionte è sensibile alle onde sonore e quindi riesce a staccarsi e a cadere giù dal campanile peccato che in quella chiesa c'era anche Eddie Brock Jr che in questo caso non mi è piaciuto non è l'Eddie Brock cattolico che va in chiesa per togliersi la vita comunque del cattolicesimo ci aveva capito poco anche l'Eddie dei fumetti ma è un Eddie talmente viscido e fuori di testa che va in chiesa per chiedere a Gesù di uccidere Peter Parker troppo forzato anche per un personaggio del genere ma questo serve a far trovare Eddie sotto al campanile dove sente le urla di Peter che getta il costume nero dal campanile che sentendosi abbandonato trova conforto in Eddie e nasce Venom un Venom purtroppo che abbiamo visto pochissimo che mi sarebbe piaciuto vedere sviluppato più avanti ma purtroppo la trilogia è finita e hanno tagliato corto togliendoci Venom di torno peccato davvero davvero peccato nel finale abbiamo uno scontro Venom uomo sabbia che si alleano come nei peggiori film di Batman degli anni 90 per sconfiggere Peter e rapiscono nata volta pure in questo film Mary Jane ma finalmente questo serve anche a concludere appunto due trame Harry Osborn che torna una volta nei panni di Goblin Junior chiamiamolo così per aiutare Peter questa volta per redimersi e sacrificarsi per l'amicizia che lo lega a Peter e l'amore che lo lega a Mary Jane il sacrificio di Harry Osborn anche questo è preso dai fumetti nei fumetti Harry Osborn una impazziva a causa del siero di Goblin e delle droghe che aveva usato che gli facevano distorcere la realtà ma a un certo punto si redime e salva Peter stesso sacrificando la sua vita questo è successo anche nel film e mi è piaciuto davvero tanto che abbiano chiuso il c... mi è piaciuto tanto ma mi è dispiaciuto che il personaggio di Harry morisse ma sapendo che è successo anche nei fumetti mi è piaciuto vedere che Sam Raimi abbia citato tutto questo arco narrativo favolosamente si conclude anche la trama del killer di Zio Ben che affronta finalmente Peter con la verità raccontandogli quello che è successo e Peter anche in questo film come nel film scorso usa quello che gli ha insegnato Zia May per affrontare il nemico nel migliore dei modi cioè perdonarlo il perdono non serve tanto all'uomo sabbia o meglio serve anche all'uomo sabbia ma lo merita il perdono non è importante non è importante che la persona che ha fatto il torto meriti il perdono è importante che la persona che può perdonare perdoni perché perdonando migliora se stessa migliora la qualità della sua vita infatti Peter nel momento in cui perdona l'uomo sabbia non è più animato dalla vendetta non è più animato da il costume nero non in senso letterale ma nel senso metaforico che rappresentava il costume nero quindi scrollandosi ridosso questo peso torna a essere il coloratissimo uomo ragno il film ha sicuramente molta più carne al fuoco della media degli altri due film ed è per questo che non è piaciuto a un primo impatto quando è uscito nelle sale ma comunque a rivederlo adesso è girato molto molto meglio di tanta altra roba che si vede oggi al cinema tanta altra roba supereroistica che si vede compreso il Marvel Cinematic Universe io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.